Benvenuti in Curia Giulia. Oggi per motivi tecnici non abbiamo la diretta, però sarà tutto registrato e la manderemo ovviamente dopo. Quindi ci scusiamo per questo inconveniente, purtroppo è al di là della nostra volontà. Oggi presentiamo il bellissimo volume I Diosco ritornano a Roma, che è il catalogo della mostra, di una bellissima mostra che poi andremo a illustrare, di Gianfranco Meggiato. Poi dell'artista parleranno qui i presenti. Quindi c'è accanto a me Giulia Silvia Ghia, assessore alla cultura, scuola sport, politiche giovanili del primo municipio di Roma, Roma Centro. Abbiamo anche accanto Alberto Samonà, scrittore e giornalista componente del Consiglio d'amministrazione del Parco archeologico del Colosseo, grazie per essere venuto da Palermo. e l'artista Gianfranco Meggiato. Inoltre è previsto l'intervento di Peter Eustace, che è poeta, che è qui, che presto ci raggiungerà, anzi sarà qui al podio. Quindi, come dicevo, presentiamo questa bellissima mostra che io ho potuto vedere proprio il giorno dell'apertura a Via Veneto, fortemente voluta da qui presente Giulia Silvia Ghia, che ringrazio. Si tratta di queste undici monumentali sculture, che in qualche modo si riallacciano al nostro passato, alla Roma Antica, in un dialogo costante tra antico e moderno, che ci aiuta, guardando al passato, anche a interpretare il nostro tempo. Le opere di Meggiato sono realizzate in alluminio, con la tecnica della fusione a staffa, e in bronzo, con l'antica tecnica della fusione a cera persa. E partono da due sculture che si ricollegano a questo luogo, ossia rappresentano i dioscui, quindi i due fratelli per eccellenza, che ancora oggi noi vediamo nel cielo, come sotto forma di costellazione. E noi abbiamo qui, a pochi passi dalla Curia a Iulia, questo grande tempio, il tempio proprio di Castore Polluce, che risale agli inizi del V secolo. Perché queste due divinità sono considerate, erano considerate dai romani dell'antica Roma, come delle divinità salvatrici, fratelli proprio che avevano in qualche modo garantito la vittoria sul lago Regillo, contro i latini, che erano in qualche modo capeggiati da Tarquinio il Superbo, che era stato cacciato da Roma, ma che comunque voleva ritornare nuovamente. Proprio quindi siamo alla fine dell'età Regia, all'inizio della Repubblica. E proprio per ringraziare l'intervento divino, perché grazie a questa apparizione, questi due misteriosi cavalieri che comparvero sul campo di battaglia, i romani riuscirono a vincere e proprio per ringraziarli dedicarono questo grande tempio, di cui ancora abbiamo i resti del podio e anche di tre colonne del lato lungo. Non solo, ma poi i due fratelli, uno umano, l'altro divino, arrivarono qui a Roma, e sempre non lontano da qui, arrivarono anche sui cavalli bianchi, se voi andate anche nel nostro museo del foro, troverete anche i resti delle statue dei Dio Oscuri, ritrovate proprio questi resti nella fonte di Giuturna. E proprio alla fonte di Giuturna beverarono i loro cavalli, annunciarono la vittoria e scomparvero. E ora invece sono ricomparsi, grazie a queste opere di Gianfranco Meggiato. E in qualche modo oggi entrambi, Castro e Polluce, riemergono da questo passato come un'epifania, un'epifania e dialogano con il nostro contemporaneo. Hanno anche un messaggio nei nostri confronti, queste sculture, questi personaggi, una riflessione sulla dualità e sulla complementarità, concetti che in questo caso prefigurano l'unione e la concordia. E neanche a farla apposta, poco distante, c'è anche il grande tempio della concordia. E dunque grazie. E ora passo la parola a Giulia Silvia Ghia, che poi introduce... Ecco, io tra l'altro vorrei anche dire che il bellissimo catalogo è edito da Giorgio Mondadori, visto che abbiamo qui anche il rappresentante dell'editore, quindi questo credo che sia molto importante. Ed è un bellissimo volume che, appunto, invito tutti ad acquistarlo. Grazie. E ora la parola a Giulia Silvia Ghia. Buonasera a tutti. Grazie direttrice, grazie Alfonsina. Sicuramente mi unisco all'elogio di questo volume perché è particolarmente bello. Dalle fotografie, la resa fotografica è veramente molto apprezzabile, soprattutto per quanto riguarda i colori. Il fatto che sia una carta opaca, secondo me, pone in rilievo le sculture di Gianfranco Meggiato. Anche il formato tascabile, devo dire, il doppio formato, poi inglese-italiano. Quindi, insomma, siamo internazionali e con questa mostra, in qualche modo, è la terza mostra che organizziamo di arte contemporanea su Via Veneto, da quando sono diventata assessore, perché la mia, diciamo così, il mio filone, il fil rouge con cui vorrò andare avanti, sarà proprio quello di cui Alfonsina parlava prima, cioè di collegare il nostro passato, di dare un senso al nostro passato attraverso l'arte contemporanea, che è un'arte più vicina ai nostri giovani, di maggiore comprensione per i nostri ragazzi e quindi trasmettere attraverso l'arte contemporanea dei concetti che ci sono sempre stati, ma che sin dall'antichità, attraverso l'esempio degli Oscuri, ma tradotti come arte contemporanea, è più comprensibile ai nostri ragazzi. Quindi il tema degli Oscuri che apre poi questa mostra è il tema dell'amore fra fratelli, fratelli diversi, perché uno è umano, l'altro è divino, e quindi è un invito a superare le differenze e quindi ad accettare la diversità come una cosa normale. E di questi tempi ne abbiamo assolutamente bisogno, forse più adesso che non quasi nell'antichità, almeno da quanto sappiamo. Quindi il percorso poi delle sculture che vorrei che Gianfranco magari ce le esponesse con maggior dettaglio non si ferma ovviamente agli Oscuri, ma quello che a me ha colpito particolarmente e per cui io veramente ho insistito con le varie istituzioni a dare l'autorizzazione non è mai un percorso semplice quando si ha a che fare con il Comune di Roma, la sovrintendenza e tutte le occupazioni di suolo pubblico, eccetera, ma diciamo che quello che sto cercando di fare è proprio di rendere Via Veneto e alcuni luoghi, alcune aree, alcune piazze come punti dove si ritornerà, dove se appunto si ritorna e quando si ritorna ci sarà sempre qualcosa di contemporaneo esposto. Ho proprio una programmazione da qui ai prossimi tre anni, ma non è di questo di cui volevo parlare, soprattutto della cosa che mi ha colpito maggiormente di tutta questa mostra. Il fatto che quello che rappresenta secondo me il messaggio, al di là del fatto che dobbiamo superare in qualche modo le diversità e accettarci per quello che siamo, ma il viaggio, il percorso verso questa accettazione comincia da noi, da noi che guardando quelle sculture ci rendiamo conto che la perfezione è la sfera che è dentro la scultura, quindi la perfezione, quindi l'accettazione dell'altro che è in qualche modo ha una perfezione diversa dalla nostra, si riflette in quella sfera e quella sfera è contenuta e quasi bloccata nel manifestare la sua lucentezza, la sua perfezione, dalle superfetazioni, da tutte queste cose che la vita quotidiana in qualche modo ci costringe a bloccare questa nostra lucentezza interiore. Quindi è anche un invito, secondo me, a guardarsi dentro, a guardarsi dentro e ad accettarsi per quello che siamo proprio perché nel momento in cui accettiamo noi, accettiamo anche l'altro. Quindi io volevo dare questa mia interpretazione e passare la parola ad Alberto Samonassi. È questo la scaletta? Io vorrei far fare un saluto a Carlo Motta che è fuori programma, siccome è venuto a nome di Cairo Editore, dell'editore di Giorgio Mondadori, da Milano, quindi mi piacerebbe, ecco... Vi ringrazio, ringrazio tutti, ovviamente saluto tutti, ringrazio il direttore del Parco archeologico che ci ospita, che mi ospita, anche se, come dire, sono un po' in intruso in questa presentazione, nel senso che non era prevista la mia presenza. Ringrazio anche e soprattutto tutti coloro che hanno collaborato a questa mostra, l'assessore Amato, tutto lo staff, le istituzioni, perché è sempre complicato, l'ha già ricordato l'assessore, organizzare queste cose. Devo dire che siamo ormai al settimo volume, al settimo volume realizzato con Gianfranco Meggiato. Abbiamo curato la mostra, la prima mostra ormai nel 2017-2018, se non ricordo male, alla Misericordia di Venezia. È seguita Piazza Bologni con una bellissima installazione per le vittime della mafia, contro la mafia, Piazza Bologni a Palermo. È seguito il giardino di Zizza a Matera, nelle murge materane, luogo splendido. È seguita ancora la Valle dei Tempi di Agrigento. È ancora Piazza dei Miracoli, il centro di Pisa, con queste mostre diffusa. L'anno scorso, più o meno in questo periodo, l'incontro davanti al Palazzo di Giustizia, sempre a Roma. E infine questa bellissima mostra. Allora, mi piace ricordare, e vorrei parlare, se mi consentite, di cifra espositiva di Gianfranco Meggiato, perché Gianfranco Meggiato, devo dire sostenuto, aiutato tantissimo da sua moglie e da Alessandra, ha sempre questo desiderio, questa volontà, di collocare le sue opere all'interno di contesti, direi, urbani e monumentali importanti. E devo anche dire che le sue opere sono bellissime, ma neutrali, che impattano sempre in modo positivo, senza ostacolare la visione, magari, di altri aspetti del contesto. Quindi questo è, a mio parere, molto importante, ed è una cifra importante nell'attività espositiva di Gianfranco, che, lo ricordavamo prima, queste mostre, intanto, sono mostre diffuse, gratuite, quindi nessuno vende le opere durante le mostre, le persone, i visitatori, possono apprezzarle, perché sono per strada. O, in questo caso, nella bellissima Via Veneto, che è famosa soprattutto per il film della dolce vita di Fellini, è una via centrale che è entrata nell'immaginario collettivo. Ma anche in altri contesti, le persone camminano e hanno la possibilità di apprezzare queste bellissime opere. Dicevo, il settimo volume di questa collana, una collana che ha tutte le stesse caratteristiche, che è il formato 30x30, sono opere cartonate, variano, ovviamente, i numeri delle pagine, in questo caso abbiamo un'ottantina di immagini, ma la cosa interessante di tutte queste opere è che la presentazione del catalogo, la mostra finirà il 29 febbraio, la presentazione del catalogo non è mai al vernissage, non è mai all'inizio, perché proprio un obiettivo di questi cataloghi è raccontare il percorso della mostra. Infatti, all'interno del volume, voi troverete certamente le foto singole delle opere, fotografate molto bene, ma soprattutto i visitatori mentre le osservano, addirittura gli autori dei testi che qui sono presenti, mentre dialogano con l'autore davanti alle statue. E ancora il backstage, perché, lo abbiamo ricordato prima, per organizzare queste mostre ci vogliono tantissime persone, ci vogliono addirittura i carri con le gru, perché sono opere monumentali, e quindi intorno all'organizzazione di queste mostre ci sono decine e decine di persone, soprattutto Gianfranco e la moglie, insieme a tante altre persone che li aiutano, insieme alle istituzioni, in questo caso all'assessore e a tutti coloro che hanno in qualche modo fluidificato questa mostra, perché questa è la storia della mostra. Tutte queste cose poi rimangono all'interno del volume e il volume diventa una bellissima testimonianza di un momento storico importante, che è bello sia per la città e sia soprattutto per l'autore. Grazie a tutti, grazie alla vostra attenzione. Bene, intanto devo dire che questo volume, Carlo Motta ovviamente non lo ha detto, ma devo dire che è veramente un gioiello editoriale, come gli altri volumi dell'editoriale Giorgio Mondadori, che sono volumi preziosi, preziosi perché sono volumi che raccontano l'arte, che raccontano il contemporaneo, che lo raccontano attraverso lo scritto, attraverso l'immagine, attraverso la resa. Io sono un innamorato nostalgicamente, inguaribile, innamorato della carta, quindi la carta per me è importantissima, comprendo senz'altro la tecnologia, la conosco, la pratico quotidianamente, ma quando vengono fuori dei prodotti, scuserete il termine, prodotti, editoriali così interessanti, che io appunto ho definito preziosi per questa ragione, per me da amante della scrittura, prima di tutto da lettore, che non da scrittore, è sempre una festa, è una festa dei sensi, ecco, che devo dire che è impagabile, non può essere ripagata quando sei davanti a un pc o davanti a uno smartphone. Questa, ripeto, è una mia interpretazione personale, quindi congratulazioni a Giorgio Mondadori, editoriale Giorgio Mondadori, perché veramente è importante che vi siano questo tipo di pubblicazioni. Devo dire che poco fa lei ha usato un termine, fluidificare la mostra, che è un verbo che non è usuale, perlomeno, però rende perfettamente l'idea in questo caso, perché ne parlavo oggi con un amico che si occupa di arte, le opere di Gianfranco Meggiato, e ora entrerò un po' più nel particolare, a mio parere sono energia allo stato puro, e dunque l'energia scorre fluidamente attraverso i nostri sensi percettivi, e ci consegna qualcosa che va a stimolare, devo dire, anche quello che comunemente può essere definito l'anima, perché queste opere sono opere che guardano all'anima. Ora entro un po' più nel particolare. Intanto è interessante, devo dire, quando Gianfranco mi ha parlato di questa mostra, e mi ha anche svelato il titolo di quella che sarebbe stata la mostra, e anche il titolo del volume, I Dioscu ritornano a Roma, ha fatto bene la direttrice, Alfonsina Russo, a parlare di epifania, è stato come appunto se una manifestazione di un altrove antico si catapultasse nel nostro luogo attuale, nella nostra quotidianità, come appunto un'epifania, come una manifestazione di qualcosa di antico, di universale, di eterno, che tornasse in modo prepotente, ma non la prepotenza violenta e bruta, ma in modo significativo, a raccontarci qualcosa. Ed ecco che il dato interessante è questo, i Dioscuri sono un mito antico, un mito greco soprattutto, che trovano una grande fortuna a Roma, dove Castore e Polluce diventano oggetto di culto, soprattutto del culto pubblico, scrive tra l'altro sempre la nostra direttrice nel testo di questo libro, un dato importante, che sono molte all'interno della Roma, già in epoca arcaica, le testimonianze di questo culto dei Dioscuri, di questo culto che trova soprattutto un terreno fertile tra i patrizi, nell'aristocrazia romana, e viene appunto incentivato dalla dimensione cavalleresca di questa coppia di gemelli, gemelli divini in un certo mito, gemelli diversi in un altro mito, l'uno divino, l'uno umano, ma questa è appunto, ci sono molteplici interpretazioni del mito dei Dioscuri, attenzione, quando io parlo di mito, non parlo di leggenda, la leggenda è già un'altra cosa ancora, il mito, avrebbe detto ancora qualche decennio or sono, René Guénon, è un simbolo agito, e dunque il mito dei gemelli altro non è che un simbolo che si consegna anticamente, si consegnò ai Greci come ai Romani, ma si consegna ancora nuovamente appunto come Epifania o come Ierofania, una manifestazione del Sacro, si consegna a noi come un, direi come un'attestazione, come una testimonianza di una possibilità, di una possibilità che un simbolo, o meglio che due simboli in uno, e ora vediamo il perché, divengano vivi, divengano realtà quotidiana. E il mito dei Dioscuri, d'altronde, devo dire che è molto bello che Gianfranco abbia scelto questo tema per la sua mostra e che Giorgio Mondadori abbia sposato questo per un libro di questo pregio, perché ci consente ancora una volta di trovare quel filo rosso di unità tra le due sponde del Mediterraneo, la sponda italiana, potremmo dire, in un certo senso, e la sponda ellenica, e la sponda greca. Ancora una volta, i Dioscuri non sono un motivo di separazione, ma sono un motivo di unità fra Roma e Grecia, tra il mito classico della Grecia antica e la Roma più antica. e dunque questo Mediterraneo che non è un mare di separazione, che è stato un mare di grandi conflitti, di grandi scontri, di culture che non sempre si sono armonizzate, spesso si sono anche scontrate, ma che oggi diviene l'occasione per ritrovare un'unità, potrei dire da siciliano, un'unità che ci fa guardare a una possibilità diversa di essere anche europei, una tradizione antica che ci permette di riconoscerci in un mito classico che ci unisce e che non ci disgrega. Direi che oggi, in tempi di disgregazione collettiva, come diceva prima l'assessore Giulia Silvia Ghia, questo è molto significativo e molto interessante. Io non amo parlare del termine, non amo dire il messaggio, ma per me è molto interessante che l'arte ci consegni dei valori, che l'arte ci consegni dei principi a cui tendere e che non ci sia la disgregazione totale dell'individuo e dell'uomo, ma che si ritorni a qualcos'altro. Ecco dunque che il mito dei Dioscuri è perfetto per tornare a questo qualcos'altro, perché i Dioscuri sono stati rappresentati in molteplici accezioni, li ritroviamo a fare gli Argonauti, ad esempio, li ritroviamo alla ricerca, al salvataggio di Elena, li ritroviamo come traumaturghi e come mito salvifico. Non è un caso che in epoca cristiana un'altra coppia importante, una coppia di medici santi, Fece Capolino, i Santi Cosma e Damiano, anch'essi con un significato importante, salvifico, un significato di cura dell'umanità. Io sono molto legato alle tradizioni anche cristiane e devo dire che a Palermo, io vivo a Palermo, anche se ho la fortuna di essere con Alfonsina Russo nel consiglio di amministrazione di questo parco archeologico, da palermitano amo molto il culto di Castore e Polluce, della borgata marinara di Sferracavallo, che è una delle borgate di Palermo, e vedete questi due, stavo dicendo dei, questi due santi, ma non è molta la differenza in questo caso, vengono portati in processione da centinaia e centinaia di devoti nell'ultima domenica del mese di settembre ogni anno, che a piedi scalzi, danzando e correndo, portano questa vara, diciamo, dalle nostre parti, la vara con i due santi in processione, cantando, danzando e correndo per dodici ore. E cos'altro è questo se non undarsi, se non undarsi a questo mito divino, che non è un mito, ma che poi diventa realtà, a questa possibilità che i due santi ci danno di ricongiungerci a una dimensione più grande di noi stessi, il sacrificio, rendere sacro, in questo caso, una danza, come una processione, come un canto, come un'azione quotidiana, per consegnarci al divino. E devo dire che in questo, Gianfranco, mi ha felicemente spiazzato, non da ora, perché io lo avevo, devo dire che conosco l'arte di Gianfranco Meggiato da quella mostra che citava lei di Palermo, quella mostra contro la mafia, nella quale, devo dire, in modo molto toccante e molto emozionante, in una delle piazze più antiche della città, vennero esposti in nomi di tutte le vittime di mafia, scritte su sacchi di iuta, con al centro una scultura di Gianfranco Meggiato, ma quello che mi racconta Gianfranco Meggiato attraverso la sua lettura del contemporaneo è una scultura attualissima, una scultura assolutamente contemporanea, ma che è del tutto differente, e qui io ho un'opinione, da certa arte contemporanea, che in realtà è vittima, dal mio punto di vista, del concettualismo più becero e più sfrenato, ed è vittima anche di un egoismo, di una esaltazione dell'ego dell'artista, che spesso ammanta o maschera tale concezione con significati di tipo sociale, veri o presunti, che dir si voglia, o a volte con una provocazione fine a se stessa, non scevra da una serie di ideologie, che però alla fine non lasciano nulla, è ad uso e consumo del consumo, è molto spesso di un mercato, che è il mercato che Gianfranco Meggiato devo dire a cui non interessa, che non segue e che non è interessato a questo tipo di mercato, di un mercato che si nutre di slogan, che si nutre di potrei dire di pacchetti da consegnare acriticamente, a una massa, qui invece c'è un ritorno al classico, paradossalmente, ma com'è il classico? Cioè queste sculture sono futuristiche, avveniristiche, beh sì, si può guardare al classico, si può guardare al mito, si può guardare a una tradizione che probabilmente non nasce oggi ma ci viene consegnata da millenni e da tanti artisti con i linguaggi attuali, senza rifugire dall'attualità e dal contemporaneo, ma ricongiungendosi a un itinerario antico, ecco perché a mio parere Gianfranco Meggiato è un contemporaneo che rende un tributo al classico in modo costante con la propria opera, lo fece a Matera per Matera capitale della cultura, capitale europeo della cultura con una bellissima mano di Fatima che ha un significato di pace che tutti conosciamo, non ve lo so da spiegare e che tra l'altro unisce le tre religioni monoteistiche ce ne vorrebbe di questo tipo di messaggi di unità altro che di carneficine di ogni tipo e di ogni colore non è qui il caso di dire chi ha torto e chi ha ragione non è questa la sede ma ci riconsegna messaggi antichi che ci riconciliano in un certo senso ecco che non è il messaggio politico è l'essenza dell'essere umano di potersi riconciliare con se stesso e con l'altro quella parola che a volte rifiutiamo che a volte rinunciamo a guardare che non riusciamo a considerare perché siamo così chiusi nel nostro piccolo l'altro ecco che l'aver scelto Castore e Polluce i due gemelli e a un certo punto nel mito che vuole Polluce il gemello divino cosiddetto e Castore il gemello umano una volta che muore il fratello umano il Polluce chiede a Giove di poter rinunciare alla propria divinità per in un certo senso salvare il fratello per restituire la vita a ciò che è il fato è un'altra parola importante in questo luogo ma comunque non è forse questo il termine però potrebbe essere perché no perché ha anche un significato divino ed evocativo ciò che il fato aveva tolto ed ecco che ancora una volta questi due opposti non sono più opposti prendo a prestito una parola un verbo un termine molto caro all'articolo quasi un mantra potrei dire molto caro all'artista del ritorno all'uno in tutte le sue opere Gianfranco Meggiato parla del ritorno all'unità non è un'invenzione ovviamente di Gianfranco Meggiato ci viene consegnato tutto questo della filosofia greca e ancora prima potrei dire e poi in epoca medievale i poeti di lingua persiana sufi parlavano dell'unità e tutte le tradizioni spirituali parlavano dell'unità pagane cristiane e tutte quanti ecco che però diventa come un riferimento costante il richiamo di Gianfranco all'unità che si ritrova in questa mostra dove non sono due energie che si scontrano ma sono due possibilità che si incontrano e a cui tendere l'ebraismo della Kabbalah per esempio quando parla dell'unità dice che c'è l'uno poi c'è la vita umana due tre quattro cinque sei sette otto e alla fine il vero compimento è quando si arriva al numero dieci che non è altro che l'unità stessa uno più zero e allora la vita umana dovrebbe tendere nuovamente a questa unità ed è quello che fa Gianfranco ma non come esercizio dialettico o come speculazione intellettuale ma quasi a volerci dire che questo tendere all'unità è una necessità ontologica è quasi un dovere etico di ciascuno di noi potrei dire la missione per cui siamo su questo pianeta è questo che mi arriva dall'opera di Gianfranco Meggiato quindi è una sorta di appello a se stesso e a ciascuno di noi per tornare a questo significato di unità e lui dice sempre siamo tutti uno bene mi convince e però anche se noi non ne siamo consapevoli se spesso viviamo in questa separazione in questa dolorosa separazione dall'unità c'è questa fiamma questo fuoco antico che continua a bruciare anche come fiammella minuscola che ci richiama che ci ricorda quasi come il mito della Fenice che è sotto sceneri profonde sedimentate apparentemente insormontabili però continua a vivere perché perché a un momento particolare a un certo momento questo mito può nuovamente prendere il volo e ritornare da dove è arrivato e allora ecco che questo ci permette un'altra riflessione almeno a me personalmente come noi siamo spesso zavorrati scuserete questa espressione ha un significato anzi ha un opprimente materialità o materialismo questa opprimente materialità ci impedisce di guardare altrove eppure Gesù ci ha insegnato che il suo sacrificio si è è stato reso a noi tutti attraverso la crocifissione il Cristo al centro della croce tra due assi l'asse orizzontale dell'essere uomo e l'asse verticale dell'essere divino ecco che Gianfranco è come a volerci dire che ciascuno di noi può stare al centro misticamente di questa croce e ciascuno di noi può essere a immagine e somiglianza di questo figlio del divino e ciascuno di noi può essere a modo suo figlio del divino e e però questa materia ecco non è da rifuggire non è da condannare Gianfranco Meggiato lavora la materia plasma la materia oggi si parlava dell'officina dell'atelier nel quale si lavora il bronzo l'alluminio con le varie tecniche lo diceva poc'anzi Alfonsina Russo con ecco che plasmare la materia lavorare la materia vuol dire non etichettarla come qualcosa da buttare allontanarsene chissà inseguendo chissà quale volo pindarico vuol dire lavorarla vuol dire trasformarla vuol dire render vuol dire sublimarla ecco mi viene mi viene a mente mi scuserai Gianfranco mi viene a mente il lavoro degli alchimisti nel laboratorio alchemico la trasmutazione del metallo da vile piombo a oro che non è una trasmutazione fisica ma è una trasmutazione spirituale il vero oro non è di colui che si arricchisce economicamente e si riempie la saccoccia di gioielli ma il vero oro è l'oro spirituale di chi plasma questa materia interiore e permette a questa materia a poco a poco di sgrossarsi di pulirsi di dicono i cristiani ortodossi di deificarsi attraverso la preghiera dicono i cristiani ortodossi ma ogni religione ha la sua possibilità e dunque mi viene a mente parliamo di romani parliamo di greci potremmo parlare degli hindu nell'induismo si parla di maya ma maya non è la materia illusoria maya è l'illusione nel momento in cui restiamo vincolati e anche nel buddismo vincolati alla materia ma nel momento in cui viviamo quella materia e la consacriamo al divino ecco che la materia si apre come una porta per ricongiungerci all'unità di cui ci parla Gianfranco attraverso le sue molteplici mostre e attraverso il mito dei dioscuri in questo caso ecco che è un po' un invito silenzioso perché Gianfranco non è una persona che parla tanto secondo me è anche molto timido però la sua arte ci significa tutto questo ci rappresenta tutto questo e per me non è non è un caso che a curare questa mostra che potete ancora vedere lo diceva prima l'assessore ma anche la nostra direttrice fino al 29 febbraio in via Veneto a Porta Pinciana questa mostra di grandi sculture anche molto eleganti devo dire che si spostano molto bene con il luogo con la sua storia e con la sua attualità ecco che non è un caso che a curare questa mostra sia Dimitri Ozerkov che magari a noi profani può dire poco ma chissà di arte contemporanea dice tantissimo Dimitri è stato fino a poco tempo fa il direttore del contemporaneo all'Ermitage di San Petroburgo poi ha abbandonato in polemica l'Ermitage dopo tutto ciò che è avvenuto a livello internazionale la crisi in Russia-Ucraina e adesso vive credo in Francia parliamo di uno dei più importanti curatori d'arte contemporanea al mondo ecco che come dicevo prima il mito classico la tradizione un qualcosa di assolutamente antico al contempo può essere assolutamente attuale può essere assolutamente contemporaneo senza provocare senza cadere nella volgarità senza cadere nel gesto teatrale nel coup de théâtre non c'è bisogno non c'è bisogno di questo ecco per raccontare qualcosa per raccontare un percorso artistico oggi leggevo di una regista leggevo su Repubblica di una regista che dice l'anno prossimo lascerò Palermo sai che c'è io dieci anni fa avevo letto la stessa notizia sempre della stessa persona beh a un certo punto non c'è bisogno di questi colpi di teatro ma chi se ne frega scuserete però cioè chi lavora lavora in silenzio lontano dal caos dal rumore o anche in mezzo al rumore perché no si può lavorare benissimo un grande mistico Giorgio Ivanovic Gurdjieff scriveva i suoi libri seduto al caffè della Pè al centro di Parigi di fronte all'Opera in mezzo alla gente che consumava caffè nel caos della capitale francese ma il silenzio è una condizione interiore che ci riguarda tutti che può arrivare perché ci sono gli uccellini che lo richiamano ma può arrivare perché ci sono i clacson del caos romano specie in questo periodo di cantieri che lo richiama lo stesso eppure il silenzio è una condizione interiore e allora ancora una volta Gianfranco Meggiato ci invita a ricercarlo questo silenzio dicevo all'inizio di questo intervento mi scuserete se mi sono dilungato ma ho cercato di entrare nel merito di questa mostra è una necessità ontologica perché si ritorna all'antico come una rivoluzione potrei dire una rivoluzione copernicana per tornare dove siamo però forse 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 un po' più consapevoli e per fare in modo che attraverso l'insegnamento dei gemelli divini o gemelli diversi l'uno umano e l'altro divino possiamo oltrepassare una soglia interiore che poi anche altre divinità nel nel mito romano richiamano questo da poco è iniziato il 2024 Janus è un dio che introduce all'apertura delle porte all'ingresso in un'altra dimensione con le due facce del divino l'una divina e l'altra umana eppure le due facce congiunte da un asse mistico che richiama ancora una volta l'unità esattamente come i di oscuri questo asse che ci ricorda che è un asse non fisico è un asse interno è un asse interno che ci può guidare Franco Battiato che ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare parlava di centro di gravità permanente non soltanto lui beh non è qualcosa di così diverso tutto si ritrova in luoghi apparentemente così lontani fra loro eppure così familiari perché quando c'è una purezza di intenti è un richiamo a ciò che ci è stato consegnato da chi è venuto prima di noi questo sguardo antico in qualche modo esattamente come le opere di Gianfranco diviene uno sguardo vivo presente attuale ed è ed è per questo che devo dire sono stato onorato quando Gianfranco Meggiato mi ha chiesto di scrivere un testo per questo catalogo per questo libro perché mi ha dato la possibilità non di raccontare i di oscuri non sono io che devo farlo ma di un po' con uno sguardo di chi non sapeva nulla di questa mostra guardandola in una mattina piovosa di dicembre ha tratto questo tipo non lo so non credo io sono poco mistico sono molto pragmatico e reale in realtà però mi ha dato la possibilità di sentire ciò che Gianfranco Meggiato ci voleva trasmettere sentirlo non elaborarlo ancora una volta non in modo analitico potrei dire ma in modo potrei oso dire analogico perché simbolicamente le opere di Gianfranco richiamano tutto questo ecco che per me questo è molto importante devo dire tra l'altro ho visitato un paio di giorni fa la mostra di Fidia e anche lì c'è il richiamo ai di oscuri perché c'è la riproduzione dei due di oscuri del Quirinale è molto interessante anche questo ho detto guarda anche qui non l'avevo letto nei comunicati stampa nel materiale che era stato consegnato ai giornali però devo dire che è stato molto interessante anche questo e sono contento che il parco archeologico del Colosseo ha voluto organizzare oggi questa presentazione perché tutto ciò che ci permette di pensare direttore tutto ciò che ci permette di riflettere tutto ciò che ci permette di di essere liberi in un certo senso è nutrimento è un combustibile non inquinante alla nostra vita di ogni giorno e allora Gianfranco a un certo punto chiude questa mostra dicendo i due gemelli ci dicono una cosa che bisogna ritrovare questa unità specialmente in un momento come quello attuale di disgregazioni di omicidi di massa di guerre di di follia ecco ritrovare ciò che ci fa riconoscere che ci fa ritrovare ancora una volta fratelli gemelli perché siamo tutti accomunati da un medesimo destino avrebbe detto quinto Aurelio Simmaco davanti all'altare della vittoria siamo tutti sotto il medesimo cielo e quindi guardiamo le medesime stelle beh è tutto questo è così palese eppure c'è bisogno che l'arte ancora una volta ce lo ricordi beh ben venga quando l'arte ce lo ricorda grazie la parola all'artista la parola a chi all'artista all'artista no perché poi il poeta interviene alla fine benissimo perfetto allora io vi ringrazio tutti quanti per la vostra presenza qua e per quanto avete sostenuto questa mostra che è stata abbastanza complicata da mettere in essere noi viviamo attualmente in un mondo molto complicato da un lato abbiamo uno scontro tra imperi e dall'altro però tuttavia abbiamo un punto di contatto che si sta sempre di più materializzando tra spiritualità scienza e filosofia Max Planck che è il padre della fisica dei quanti ancora nel 1918 affermava che la materia in quanto tale non esiste ma che tutto è fatto da questi microsistemi solari che sono questi atomi con al centro il nucleo e gli elettroni che girano ad una velocità molto elevata pertanto tutto sarebbe un'illusione in più affermava che si evince dallo studio della materia che c'è una mente cosciente intelligente che tiene insieme tutto l'universo sono delle affermazioni particolarmente forti che io ho fatto mie e che mi fanno dire che veramente tutto è uno che noi siamo delle gocce di questo universo venuti qua a fare un'esperienza c'è un esperimento della fisica dei quanti che è particolarmente importante che è quello della doppia fenditura ve lo dico in due parole diciamo molto semplici c'è un pannello con due tagli sui quali vengono sparati dei fotoni ecco questi fotoni se nessuno osserva questo esperimento si comportano come delle onde come quando uno butta un sasso nello stagno però basta che anche un bambino osservi l'esperimento e incredibilmente queste particelle subatomiche sentono di essere osservate e cambiano natura e stato e si comportano come dei raggi allora la domanda è ma chi siamo noi in realtà per avere la possibilità di far cambiare stato e natura particelle subatomiche forse siamo un po' di più di quello che ci dicono che noi siamo questa mostra dei Dioscoli è stata fatta perché perché i Dioscoli sono un esempio che ci arriva dal passato per parlarsi del presente sono due fratelli uno mortale e uno divino diversi e qui proprio nasce il discorso del rispetto tra diversi la fratellanza ed è un messaggio di un'attualità estrema stiamo vedendo in tutto il mondo quello che sta capitando e pensare che dal passato si riesca a estrapolare un messaggio di una tale attualità è a mio avviso una cosa che è diciamo meravigliosa perché Roma ci dà questa possibilità estrapolare dal mito questa cosa meravigliosa ecco io ho rappresentato i due Dioscoli non come delle immagini figurative ma quasi come se mettessi in scena l'essenza energetica di queste due figure c'è la figura più alta che è alto 5 metri un po' a luce che è la presenza del fratello divino che sta porgendo una sfera di immortalità e di consapevolezza al fratello mortale che è l'attimo fuggente Castore che la sta per accogliere lui è colto in un momento di quasi afflosciamento di passaggio tra la vita e un'altra dimensione però lui Castore cioè l'attimo fuggente non è consapevole che dentro di sé c'ha una sfera molto più grande quante persone fanno una vita senza mai cercare dentro di sé questa sfera lucente che c'è e neanche si pongono il problema di cercarla quando è quello che ci dà la vita fondamentalmente ecco e poi attimo fuggente perché intitolare un'opera attimo fuggente perché la vita di noi mortali è fatta di attimi fuggenti però molto spesso noi siamo o imprigionati in un passato che non c'è più e che non può più ritornare o pensiamo ad un futuro che non sarà mai come lo pensiamo noi e ci perdiamo il vero momento che va vissuto che è qui adesso e ora per cui questa mostra alla fine è un messaggio a riflettere io amo fare queste sculture queste installazioni e porle non nei musei nel chiuso dei musei dove purtroppo va sempre meno gente ma nelle piazze senza pagamenti di biglietti ma in mezzo alla gente dove possano essere un elemento di riflessione di stimolo perché l'arte questo deve essere come diciamo diceva giustamente Alberto e la dottoressa Ghia devono essere momenti per far riflettere il compito dell'arte è questo farci crescere e farci riscoprire quella parte divina che io credo sia dentro ognuno di noi io chiamerei Peter Rostash a leggio che è poeta ma è anche colui che ha tradotto in inglese i testi del catalogo buonasera mi chiamo effettivamente Peter Eustace come sentite sono anglo-italiano ho tradotto i testi degli ultimi cinque libri di Gianfranco e avendo l'occasione a dicembre di incontrarlo a Verona dove abito l'avevo proposto delle poesie che stavo scrivendo ispirate dai titoli delle sue opere essendo venuto in contatto con il suo pensiero e il suo spirito molto da vicino traducendo anche i suoi scritti non solo i testi dei critici e con l'apertura mentale che ha a lui l'ha detto fammeli vedere ed ecco sono una decina pubblicati nel libro che mi fa molto 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 piacere sono onorato di essere qua un'esperienza molto particolare e vorrei leggere due testi se posso su temi che lo so che sono molto sentiti da Gianfranco il primo è la fratellanza e la poesia sui due fratelli Castore e Poluce ci incrociamo a giorni alterni come il mattino e la sera una condivisione tra vita e morte eternamente vivi eternamente morti da fratelli come potevamo lasciare uno di noi morire e l'altro vivere condividiamo questo vivere a metà morire a metà sorridendoci a vicenda mentre entriamo e usciamo della nostra vita e morte a metà alba e tramonto le nostre due le nostre due le nostre due morti diventano una vita una gioia un unico amore noi siamo uno anche nella nostra separazione grazie l'altro che vorrei leggere si chiama il vollo faccio presente che io scrivo in inglese traduco l'italiano lavoro con le persone per mettere a posto i test e a volte l'italiano mi fa cambiare l'inglese per cui c'è sempre questo scambio contaminazione come in questo caso delle opere d'arte che ispirano altre opere d'arte flight in inglese vuol dire sia vollo che fuga che spiega la prima riga del verso il vollo niente icaro niente fuga in Egitto niente fratelli Wright nessuna grande fuga niente ocche in formazione a vu solo quel bisogno di elevarsi al di sopra di tutto fare grandi passi nell'aria liberati dalle catene del nostro mondo calpestato travagliato devastato da guerre e aprire occhi e mani nel gesto di guarigione sussurrando la parola pace in tutte le lingue del nostro pianeta grazie bellissimi questi versi di Peter Eustace forse l'ho detto bene stavolta Eustace ecco non ce la faccio a dirlo bene devo dire che è molto bello anche che la nostra direttrice abbia voluto presentare questo volume qui a 30 metri dal tempio dei Dioscuri di cui poc'anzi proprio Alfonsina parlava tempio che nel 484 avanti Cristo dopo la vittoria dei romani contro i latini venne consacrato a questi due mitici cavalieri che apparvero misteriosamente in battaglia e consegnarono a Roma questa vittoria e poi si rimanifestarono appunto e quindi venne consacrato questo tempio quindi è bello che la presentazione la facciamo qui a poche decine di metri dal luogo in cui Castore e Polluce si sono manifestati in modo sacro ecco quindi è anche significativo che dalla fonte di Giuturna dove apparvero qui e dove poi grazie agli scavi dei primi del novecento vennero trovate proprio le statue i frammenti di statue di cavalli che sono esposti al museo del foro quindi chiunque poi potrà vedere non ora perché il parco è chiuso ma diciamo nell'ordinaria apertura del parco si possono ammirare nel museo del foro quindi davvero ecco queste sono queste due figure che appunto rappresentano intanto sono salvifiche rappresentano però tuttavia come è stato ben detto la diversità la dualità ma anche poi alla fine la sintesi e l'integrazione è un po' lo specchio di noi stessi guardare il gemello e guardare noi stessi quindi diciamo concettualmente questo è stato ben messo in evidenza quindi l'unità alla fine io vorrei ringraziare adesso non so se ci sono interventi perché io di solito chiedo sempre se ci sono interventi da parte del pubblico interventi nel senso domande se qualcuno vuole richiedere qualcosa all'artista agli intervenuti lei ecco un attimo un attimo perché c'è il microfono adesso glielo portano così possiamo sentire tutti ecco ho dato un'occhiata al catalogo e le foto sono veramente eccezionali ho visto alcune foto dove ci sono dove le sue sculture se così le posso chiamare sono poggiate su basamenti volevo capire il basamento di che materiale è è in acciaio inossidabile e poi un'altra anche se poi mettiamo sopra una cevernice che lo fa assomigliare al corten un'altra curiosità queste sculture come c'è anche sulla copertina sono bianche sì questo bianco a che cosa si riferisce? il bianco perché come ho detto prima questa non è una rappresentazione figurativa dei dioscoli ma è quasi una rappresentazione eterea il bianco mi riporta ad una parte spirituale ad un'energia come se si fosse rappresentato l'energia dei dioscoli che è diciamo rimasta che è tornata dal passato per parlarci di questo messaggio di fratellanza per cui è un non colore che di fatto mi riporta a questa etericità dell'opera e il materiale mi interessava anche alluminio è una fusione di alluminio che viene poi trattato dipinto certo ok grazie prego c'è un'altra aspetto allora mentre porto il microfono aggiungo una cosa queste sculture ruotano ci sono montate su queste basi e dando diciamo una spinta con la mano ruotano su se stesse la cosa che mi ha colpito e sempre ripensando il discorso che appunto ho fatto prima della sfera centrale della perfezione è che la percezione che uno ha è che la sfera al centro non si muove cioè la sfera al centro continua a rispecchiare te stesso che guardi tutto il resto ruota quindi il casino diciamo metaforicamente è la vita è la vita la vita intorno ruota quindi e invece tu sei fermo e ti specchi in questa sfera perfetta quindi se non l'avete ancora vista e volete andare ricordatevi che c'è questo meccanismo ruotano tutte quante e poi lo spazio entrando dentro l'opera la fa quasi pulsare cioè vivere e poi è bello questa interattività fra la persona che la tocca e l'opera allora io dico sempre che le mie opere vanno toccate perché se un'opera non ti dà la voglia di essere toccata cioè vuol dire che non è viva che non ti trasmette emozioni bene intanto buonasera e complimenti per i bellissimi interventi io premetto che ancora la mostra non l'ho vista quindi sarà un'occasione anzi per vederla visto che si è parlato di un punto secondo me bellissimo questo dell'unità leggendo appunto che ci sono undici sculture questo discorso dell'unità riprende anche tutte le undici sculture cioè potenzialmente la prima nel percorso dialoga con l'ultima e tutte le undici possono essere interpretate come un'unica grande opera d'arte dunque all'interno di ogni mia mia scultura c'è un elemento che è lucido che può essere la sfera che può essere un elemento che comunque è centrale e che fa riferimento appunto a questa componente interiore spirituale che noi abbiamo e a tutti questi percorsi spesso scuri intricati che dobbiamo passare nella vita per crescere perché purtroppo questa vita funziona così se non facciamo queste esperienze anche negative non cresciamo per assurdo sono proprio queste esperienze che si fanno crescere purtroppo funziona in questo modo qui per cui il messaggio è fondamentalmente vivi anche i momenti meno facili della tua vita comunque in un'ottica che deve essere positiva consapevole che proprio attraverso queste esperienze potrei fare un percorso di crescita e penso sia un messaggio di un'estrema attualità e tutte quante queste opere hanno dentro questo messaggio c'è un altro intervento grazie io desideravo solo ringraziarvi veramente di cuore sono certa di interpretare il sentimento dei partecipanti a questo bellissimo incontro che definirei rigenerante perché in questi momenti veramente bui parlare di speranza di fratellanza soprattutto devo dire che è una delle più belle dei più bei incontri a cui io abbia assistito e sono arrivata qui un po' come penso un po' tutti in stato un po' confusionale visto i momenti che stiamo vivendo e veramente ha fatto bene all'anima questo incontro grazie a tutti grazie allora io dico una cosa che l'arte secondo me deve ancora servire a sublimare la materia ma anche noi stessi quando tutto diventa arte c'è il rischio che niente sia arte e dobbiamo stare attenti perché l'arte ha una grande missione il vero artista deve essere quello che è fra virgolette diciamo militante e che porta avanti questi messaggi l'arte io penso sia la massima espressione dell'essere umano perché può veramente dare tanto all'anima buonasera buonasera io ho visto la mostra e le faccio complimenti perché tutte le opere che sono esposte sono davvero meravigliose grazie amo amo troppo l'arte per toccarla e quindi non mi sono permessa di toccarla adesso mi toccherà tornarci con piacere grazie ancora complimenti grazie grazie chi visita i musei chi visita le mostre ovviamente quelle che riescono a trasmettere ciò che Gianfranco Meggiato con le sue opere mi pare no abbiamo questo riscontro tra l'altro sono bellissime perché anche a me piace molto altrimenti non avrei presentato il libro qui e quindi devo dire diciamo che il nostro compito soprattutto chi lavora nelle istituzioni anche museali evidentemente abbiamo raggiunto il nostro come dire quello che proprio fa parte della nostra missione perché non voglio dire obiettivo perché se no sembra che abbiamo raggiunto gli obiettivi della performance invece no abbiamo raggiunto abbiamo compiuto una missione e quindi credo che sia anche proprio questo quello che avete detto per me ma anche per tutti noi vuol dire che stiamo in qualche modo lavorando bene stiamo facendo il nostro compito stiamo svolgendo la nostra missione bene quindi davvero grazie a tutti ai presenti e poi a chi ci ascolterà dopo purtroppo indifferita questa volta e grazie ancora e al prossimo incontro grazie a tutti grazie a tutti